Trasporto pubblico locale. I sindacati di categoria mettono in evidenza due criticità che riguardano lavoratori e cittadini dopo una riunione in videoconferenza che ha coinvolto le associazioni datoriali. Dopo aver appreso l'impegno che il governo regionale ha assunto, dichiarano i rappresentanti sindacali, che nessun taglio sarà effettuata la spesa per i servizi di trasporto pubblico locale, urbani ed extraurbani, automobilistici e trambiari, diventa urgente per consentire alle aziende di garantire la mobilità dei cittadini e la nostra regione, un rapido iter amministrativo dei pagamenti dei corrispettivi del primo trimestre 2020 ed a tal proposito confidiamo che l'amministrazione regionale possa esperire nel più breve tempo possibile tutti gli atti necessari affinché i mandati possano essere celermente e concretamente incassati dai comuni e dalle aziende, permettendo il pagamento delle ritribuzioni, affermano i segretari regionali della Uiltrasporti, Filt CGL, FIT CISL, Faisa CISAL, UGL Trasporti. In merito all'emergenza coronavirus hanno sollecitato l'attenzione del governo regionale al fine di salvaguardare la salute dei cittadini siciliani utenti e non del trasporto e dei conducenti dei mezzi nell'esercizio del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano automobilistico e tranviario, sia ormai divenuto indispensabile, attuare delle soluzioni emergenziali straordinarie, hanno affermato e chiedono che il presidente della regione disponga con urgenza, per evidente causa di forza maggiore, la sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale, urbani ed extraurbani, automobilistici e tranviari per il periodo di emergenza sanitaria. Il tutto senza alcuna riduzione del corrispettivo contrattuale che per quanto riguarda la parte eventualmente integrata dei comuni, permettendo così alle aziende il mantenimento delle retribuzioni ai lavoratori, tenuto comunque conto che venendo meno i ricavi del traffico, devono essere reperite risorse per coprire i costi fissi sostenuti anche in assenza di esercizio. Hanno poi conclusi i rappresentanti della Uiltrasporti, della Filt CGL, della Filt CISL, della Faisa CISAL e della UGL Trasporti.